Musica Porca troia 23 dicembre, io speravo di usarli quei giorni Domani sarà la vigilia di Natale Sullo schermo c'è scritto due nuovi messaggi Yumi e Latipa, ci becchiamo domani, è la vigilia di Natale sai? Passa il tempo con Cia, assolutamente Non so chi sia l'altro, ma hai deciso di passare il tempo con Cia domani Non so chi sia l'altra persona, ma va bene così Oh, hai invitato Cia a casa tua per una cenetta romantica Che patatina Ti prego fammi dire che ti amo Ci sembra godersi di Natale insieme a te Ma sembra una torta di compleanno Vediamo cos'è il regalo di Natale Uno sciarpone morbido Quanto ti amo Oh, ma certo che lo passeremo assieme Verrò qui ogni volta che vorrai Hai trascorso una magnifica vigilia di Natale con Cia Ma dai, ma almeno dirle che la amavi Vuoi rimanere qua a dormire, di la verità Ecco Ecco Dai, un bacino La vigilia di Natale continua, eh In che modo 25 dicembre, l'anno volge il termine Alla solita area ristorazione del Giune Spurri di Natale aperto Non lo so, sai Poi non è stata colpa mia Nanako e Dojima invece Ecco appunto E Dojima Oh, io In realtà Nanako mi sembra riuscire a casa Oh Oh Meno male Oh, che bello Comunica a tutti Comunica a tutti il messaggio di Dojima Festeggiamo il Natale insieme Oh, teddino Nanako-chan Oh Sempre che piange questa ragazza Ecco pure lui Ci mancava Piange anche Kanji Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo che sarebbe successo questo Lei voleva il cotazzo però Ecco Eh, esatto Appena tornata dall'ospedale Quella povera ragazza Ecco Ovviamente Non era una novità Vai tranquilla Beh, tranquilla Che non era una novità Quella Ecco Ci sono solo le arance E' più alta E' più alta Questo è la vostra Cosa 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 Anako Preoccuparti, me ne avevo dimenticati, in specie quello che è passato. Non preoccuparti. Fa vedere quella torta. Ma dai! Oh no. Dio mio! Eh, quella è comprata, non l'hanno fatta loro. L'hanno comprata, di sicuro. È troppo bella per se è fatta da loro. Non perché non mi fidi, però. Visto i tre scorsi, non hai mai assaggiato niente di simile. Ecco, punto. Eh, sì, ma... Sì, ma... Sì, non è vero. Non è vero, non è vero. Come senti? È molto... È molto buono! Ah ok Allora l'hanno fatto davvero loro Ha detto che è il terzo tentativo quindi Pensa che stronzo È un regalo Christmas presento Ma dai Eh vabbè Eh vabbè È ok Il punto è come È quello che ancora non ho capito Molto Eh purtroppo è così che va Sentiamo Ad esempio In realtà Questa cosa a me preoccupa il fatto che siamo Veramente vicini appunto alla suddetta Primavera e mi hanno fatto saltare Tutto il tempo Perché se avessi saputo Effettivamente Che mi avrebbe fatto saltare così tanto tempo Io Avrei utilizzato quei giorni Per occuparmi meglio degli altri Confident secondari Ai e gli amici dello sport in particolare La vecchia purtroppo sarebbe stato un po' complicato Quindi in un eventuale New Game Plus Eh Lì Visto che probabilmente avrai già le statistiche al massimo Confident ad esempio appunto Naoto O Eh Altre cose come Dare ripetizioni Le puoi fare già Molto prima Al primo gameplay Devi maxare tutto quanto Rendendo un attimo difficile tutto questo Però Secondo me Adesso dipende Quanto tempo ci rimarrà nel gioco Ma secondo me In New Game Plus È Tutto fattibilissimo Farli tutti quanti Confident Poi Non so se me ne manca ancora qualcuno o meno Lo scopriremo Eh Lo so tesoro Eh 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 Esatto Meno male che qualcuno intelligente c'è dai Abbiamo rattristato tutti Non voglio perdere un anno Potrei comunque chiamarmi senpai Posso tornare a casa subito Dojima ti ha dato un costume di Natale Per l'idea originale fosse farne uso al festival della stazione del polizio Ma dai costume di Natale Vabbè Lunedì 26 A scuola il 26 A scuola il 26 Davvero? Ehi star Amico Ieri è stato fantastico Non ci divertivamo così da parecchio E non c'è più motivo di preoccuparsi Continuiamo a divertirci anche l'anno prossimo Ok Il che mi ricorda Hai visto le previsite del tempo? Pare che stanotte pioverà Preoccupato per il canale? Già Ci stavo pensando Visto che abbiamo battuto quel A meno saghieri Il caso dovrebbe essere chiuso no? Sono un po' scettico Sarebbe meglio se anche tu guardassi a tv se puoi Certo Ci proverò E eccolo Anche post Natale lui continua a correre Interrogazione? Va bene Capisco che siete eccitati per le vacanze Ma ora dobbiamo pensare all'assemblea finale in palestra Sono così su di giri per le vacanze invernali Ho preso un cappotto magnifico Il mio fascino maturo sarà ripera da ogni mio poro Beh godetevi le vacanze invernali Non fate pazzerelli La cerimonia di chiusura si è conclusa Oggi termina il secondo quadrimestre E decidi di andare direttamente a casa Senza neanche salvare Che palle Almeno fammi salvare Fammi salutare tutti Ho degli oggetti da dare Oh Ogari Eh ovviamente le piante sono morte Ehi bentornato Sta cominciando a fare freddo Vedi non prenderti un raffreddore va bene? Non siamo in città Dovresti metterti un'altra maglietta Le previsioni del tempo Dico che domani nevicherà Se nevica le verdurine Prenderanno il raffreddore Non ti preoccupare Star farà in modo che le verdurine Non stiano male va bene? Quando farà abbastanza freddo da nevicare Non potrai più far crescere gli ortaggi Vabbè Non che ci sia da preoccuparsi no? Purtroppo le piante sono morte Mi hanno fatto passare via Un mese intero Eh è certo che sono appassiti tesoro Ok adesso la situazione È abbastanza particolare Perché in teoria abbiamo fermato Adace Abbiamo fermato il colpevole Abbiamo fermato l'entità Che causava tutta la nebbia In teoria non ci dovrebbero essere più problemi Nella pratica Conoscendo il genere Un po' di sospetto ce l'ho La torta era buonissima Non era per niente piccante Un patata lei Mi dici qualcosa? È stata Natale vivace È un anno che è piaciuto tantissimo Devo ringraziarti Non sarebbe andata così se non fossi stato con lei Eh lo so Dovresti dare un'occhiata al canale di mezzanotte Io ho il dubbio che potrebbe apparire l'ombre di Adaci La butto lì Fuori sta piovendo Apparirà qualcosa in tv? Eh Un Natale piovoso eh Un Natale particolare Anzi Un post Natale La tv non dà segni di vita Strano Sì E non è apparso nulla Eh io sospetto che non sia così però eh Non ne sarei sicuro Adaci è ancora a livello 9 di Confident Potrebbe essere finita Poi non so se nel contenuto originale Adaci e appunto Ameno Sagiri era la fine di tutto Ma se Golden Ma se Golden prosegue vuol dire che c'è ancora qualcosa In realtà volevo ringraziarti però Eh già Eh già No e dai sta per piangere Beh saranno tutti sollevati Beh è più sentimentale di quanto non sembri 3 2 1 Adesso che mette giù Si accende la tv Si accende la tv Quanto ci fai 3 2 1 Il caso è concluso e anche il canale di mezzanotte non sembra essere in onda È indubbio che il canale di mezzanotte non trasmetterà più dei cd Andare a letto Strano Strano veramente Per un attimo ciò Passano giorni sereni e giunge la fine dell'anno Eh che cacchio Ehi cosa fai per l'ultimo dell'anno È di Yosuke Oggi vediamoci facciamo una visita al santuario Che hai deciso di vederci direttamente là di fronte Nell'area commerciale Ho sentito che distribuiscono amakaze Avviso gli altri ci vediamo lì Cos'è l'amakaze? Lo vedremo tra poco Farai visita al santuario insieme a tutti gli altri Ma non si fa il primo dell'anno Fare una giornata tranquilla Ricordi di avere vestiti invernali Nei cassetti Vestiti e abiti pesanti Ma dai Sera Ma scusa Vabbè Contenti loro Santuario Tatsuime Dio Dio Sembrava una rapina Sembrava una rapina Kanji Eh verranno col kimono le ragazze Sicuro Eh vai tranquillo Tanto Ma perché è vestito di rosa questo? Loro sai Stavo per congelare Non c'è problema Dai Stattere buono tu Ma come? All'ultimo dell'anno Vabbè Vabbè Beh dovrebbero arrivare no? Beh anche quello vero È la festa del sassicciotto Ecco appunto Beh ci sei tu utenti Sono col kimono Quanto ci fai? Ovvio Ho sentito Ho sentito non sperarci troppo Calmati Voglio vedere Naoto dai Non l'abbiamo già vista Non l'abbiamo già vista Risen kimono Vabbè che effettivamente Il kimono invernale è diverso da quello estivo Eh vabbè dai Chi se ne frega Va bene così no? Eh vabbè dai Va bene così Ma sì Ma sì Che vi frega Non so se è uno scimmione Eeeh Alla via già vi hai sperato anche tu Eh già Eh già No ma dai Eh vabbè L'importante è che siamo assieme no? Dici E che il caso è chiuso Allora Allora come ho detto Il senno di poi Avrei sfruttato meglio i giorni Prima che il caso finisse Ma va bene anche così dai Ma cos'è la mekaze Ma cos'è la mekaze E stai nevicando E stai nevicando Ma neanche un po' di fuochi d'artificio Niente Ma speriamo 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 non sia troppa però Ma povero Wakanji Wakanji Oh no Wakanda kanji Wakanji Ed è il primo dell'anno Ma continueremo da qui? No strano Ma che bellino la neve fuori Ehi la Buon anno Oh mi aspettavo almeno Eh esatto Buon anno No che tutto vada bene Fino a primavera Ho fame Ma sì vai tranquillo Mancano tre mesi Ebbè Quanto è stato in ospedale effettivamente? Un paio di settimane? Sì tre Forse un mese addirittura Mi sento sollevato Non sono ancora un uomo Avevi dubbi Grazie Beh non è del tutto falso Ma non è colpa tua Cosa potevi saperne di adaci? Adesso suonano il campanello Ebbè Chi se ne frega Ho fame Oh Itadakimasu Itadakimasu Sushi Kobumaki Passi il tempo Passi il tempo insieme alla tua famiglia Ebbè sì Giorno A quanto fa la famiglia Vediamo Vediamo Santuario Tatsuhime Quanto pare ci non è ancora arrivata Con le zeppole Dai datevi un bacino Fa schifo Sei carina Sei carina L'aria matura Sembra difficile da indossare Sei carina Ma dai Ma dai Con la testolina Ci arrossisce Ebbè Sei Ebbè Sei Te lo dico Oh No Aspetta No Vabbè Fammi finire un attio Mi sembra il momento giusto Oh Ma tutta la famiglia Non a tutti Tutti Sembrerebbe strano Se già cosa vuoi chiedere È un segreto Sarà sicuramente qualcosa Tipo stare insieme Per sempre Addirittura Che carina Va bene Che cosa carina Però con la neve Fare questa cosa Mi chiedo se anche in auto Avrebbe messo Il kimono Davanti al santuario C'è una cassetta Con gli emicuchi sigillati Prendi uno senza pensare Facendo un Ma dai Con i pensieri impuri Dai Voglio fare lo zozzo Voglio vedere cosa esce Sul tuo emicuchi È scritto Grande fortuna Oh Beh ma è raro Che esca in due cose uguali Sembra che ci abbia versato Qualche lacrima Che patatina Piccolina lei Perché tanto staremo sempre assieme Mamma mia Andiamo Vorrei andare a casa sua Ma vorrei andare a casa mia Kimi in chi Con lo capo Datto C'è un po' 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 Sì Un hot coffee Anche il primo dell'anno Eh la madonna Hai passato molto tempo con C'è Forse era meglio andare a casa sua Oh eccoti Oh giusto Riguardo all'orto Ho controllato ieri ma Si è seccato tutto Nevicava C'è troppa neve Non puoi coltivare gli ortaggi Dovresti tornare in camera tua a riposare Ebbè Fratellone Felice anno nuovo Qual è il tuo proposito per l'anno nuovo? Proposito È una specie di obiettivo Allora Arriverò prima nella corsa Tutti insieme davanti alla tv Sotto il cotazzo Il capodanno è uno spasso Oh oh Ah giusto C'è una cosa che volevo darti Tieni Fanne buon uso Dojima ti ha dato una busta con il regalo di capodanno Al suo interno 30.000 yen Non devi trattenerti In teoria queste cose dovrebbero rendere felice anche il tuo donatore Ogni anno faccio mettere da parte a nano coi soldi che le regalo Ma forse tra poco la lascerò libera di decidere come usarli Beh mettiamocela tutta anche quest'anno Oh grazie Forse era meglio andare a casa di G E vabbè Dovresti tornare in casa tua a rilassarti E se ci riprovo Vediamo cosa succede Proviamo a casa sua E che c'è di male? E quindi? È il momento giusto per presentarmi no? Oh E dai Eh vabbè Andiamo a prenderlo al Junes Dai Chi se ne frega Alla tua Chi se ne frega Alla tua Alla tua Alla tua